Musica Dalla parte del lavoro, la contrattazione per rilanciare la crescita, per valorizzare il territorio, per un nuovo modello di sviluppo e di welfare. Il governo ha negato la crisi per oltre due anni, fino ad essere arrivati a questo punto. Il paese, il futuro è bloccato, per tutti e soprattutto per i giovani. La CGL contro la precarietà, per la contrattazione e contro la rottamazione dei più vecchi. Siamo a Scandicci, all'Assemblea Provinciale Quadri e Delegati della CGL, dove incontriamo rappresentanti del sindacato e del territorio della provincia di Firenze. Per me è un piacere e un onore ospitare l'Assemblea della CGL. Il messaggio che voglio dare è quello che da questa situazione, da questa crisi, dalle criticità che abbiamo anche sui nostri territori, ne usciamo solamente insieme. Dividerci, o come vuol fare il governo, scardinare il sistema e i rapporti tra lavoro e impresa non porta da nessuna parte. Insieme sono convinto che abbiamo uno strumento in più per uscire dalla crisi. Altre cose che si possono dire del territorio di Scandicci, dal suo osservatorio preferenziale? Finora, questo ce lo dice uno studio che abbiamo fatto fare all'università per il nuovo piano strutturale, ci dice che è una zona, e penso sia al pari della zona fiorentina, che regge meglio alla crisi. Vuoi perché c'è un settore improduttivo diversificato, vuoi perché c'è un settore terzario molto forte, vuoi perché c'è il settore della moda che ha ripreso e grazie ai mercati esteri regge molto ma molto bene. Quello che si nota è che reggono le imprese che hanno mercati esteri. Allora, noi dobbiamo far sì che reggano anche quelle imprese che hanno mercati italiani e europei. Per far questo bisogna che ci siano misure per lo sviluppo a parte del governo e un patto forte davvero fra lavoratore e impresa per uscire da questa situazione. Ovviamente si parla di lavoro, di contrattazione e in questo caso, avendoti incontrato, non si può che parlare della Selex Galileo e Finmeccanica. Sì, per noi Selex Galileo, ma non solo, anche Selex, oggi Elsa, che prima era Communication, qui c'è un giro di nomi che fa impressione per noi Ote e Galileo, per capirsi. Sono due aziende importanti, due aziende di alta tecnologia. Noi crediamo che l'impegno di Finmeccanica, non solo per la Toscana, per Firenze, in un momento di grande crisi sia un impegno importante. E sono da queste aziende, da queste tecnologie, che non si può guardare anche con più ottimismo nel futuro. Peccato che non c'è quell'impegno industriale che meriterebbe. Di recente Susanna Camusso è venuta a farvi visita. A proposito di Finmeccanica, Susanna ha detto una cosa chiara, cioè per questa che oggi il più grosso gruppo industriale del paese non possiamo affrontare le discussioni pezzo per pezzo, Breda, Galileo, Communication o altri pezzi della stessa Finmeccanica, ognuno per conto suo. C'è bisogno di una grande vertenza Finmeccanica, in cui si mette al centro l'importanza strategica di questa azienda. È un'azienda a partecipazione statale, è un'azienda che ha grandi potenzialità anche sull'export, oggi fortemente limitata anche dal ruolo di governo. Nel frattempo, il 21 di ottobre, scenderete in piazza andando a Roma. Sì, c'è uno sciopero nazionale di gruppo Fiat, delle aziende, come dire, anche dell'indotto. Noi saremo presenti, noi abbiamo un'azienda che lavora per settore dell'auto, la GKN e poi parteciperanno anche delegazioni di delegati anche d'altra azienda e quindi noi parteciperemo alla manifestazione. Parliamo della situazione della Laica di San Casciano. Ci sono dei problemi incomprensibili, perché in un momento del genere avere persone che danno contro ad un'azienda sana, a dei lavoratori, soprattutto, a dei lavoratori. Quanti sono? 250? Siamo 250, siamo 250, però ci sono anche previsioni di incremento, ci sono previsioni di incremento perché comunque sia il lavoro va bene, c'è stata una ripresa, anche noi abbiamo subito dei problemi nel 2008, insomma, la crisi ha toccato un po' tutti, però ne siamo venuti fuori molto bene, abbiamo assunto anche diverse persone. Quindi il problema qual era? È incomprensibile, bisognerebbe chiederlo a chi alza questa polvere assurda, non certo a noi che noi in questo progetto ci crediamo e faremo di tutto per portarlo avanti. Non è certo una domanda da fare a me, la dovrebbe fare a chi si oppone allo sviluppo e al lavoro. Cioè, io vorrei ricordare il primo articolo della Costituzione italiana. Cioè, la nazione è fondata sul lavoro, ma mi sa che queste persone non se ne ricordano e bisognerebbe ogni tanto ricordare la Costituzione. Dopo molto tempo, dopo troppo tempo, finalmente è stata presa una decisione e quella che si chiamava Easy, adesso Easy Green, è un'azienda a Scandicci che riprende il lavoro. Sì, c'è stata ieri appunto l'assegnazione da parte del Tribunale di Firenze dell'azienda di riprendere il lavoro. Il percorso è ancora lungo, insomma. Diciamo che siamo a un punto importante, era l'alternativa che cercavamo per la soluzione ai problemi di posto di lavoro di tante famiglie sul territorio. Niente, ci aspetta un percorso ancora articolato e complicato perché c'è tutto da ricostruire. I lavoratori ci hanno messo del suo, credo, insomma, dobbiamo veramente, a noi, ai lavoratori, un merito di questo successo e niente, bisogna ricominciare a lavorare. Noi sul versante, diciamo, delle difficoltà economiche poniamo una domanda a noi stessi, l'abbiamo posta stamattina se il sindacato serve, se la contrattazione serve. Pensiamo di sì, è un elemento di responsabilità verso la società, in questo caso verso chi rappresentiamo e anche un elemento di crescita perché abbiamo delle idee e nel confronto con le controparti, come sempre avviene, un atto di responsabilità, individuare i punti di equilibrio quindi gli avanzamenti, in questo caso nel territorio. La contrattazione si deve misurare con il nuovo ed il nuovo non è certo quello di cui si è parlato in questo momento? No, si deve misurare con il nuovo, cioè una via di uscita da questa crisi è cambiare probabilmente anche i paradigmi ai quali eravamo abituati, quindi il tema della qualità del lavoro è un tema vero che si misura sull'innovazione e la competitività delle imprese, è un esercizio per le imprese ma anche per il sindacato e naturalmente si fa se c'è una visione territoriale, quindi il territorio è l'altro punto, cioè il luogo dove questo si può svolgere può recuperare risorse anche con atti propri degli enti locali magari non onerosi ma che indirizzino verso l'innovazione e la ricerca di nuove soluzioni. Oggi la CGL si interroga sul suo ruolo in questo momento, al tempo della crisi? Penso che oggi la CGL manifesta una convinzione, quella che nella crisi bisogna contrattare di più perché è lo strumento che fa partecipare le persone, si interroga su quali sono i modelli e i modi più efficaci per farlo nel rispetto delle nostre controparti e nel tentativo di dare a queste persone una qualche ragionevole certezza in più rispetto a quelle che il quadro economico e politico ci sta offrendo. Siamo a Scandici che ospita questo importante avvenimento per la CGL per tutti coloro che ne fanno parte è un paese che ha testimoniato con gli eventi positivi delle aziende che erano in crisi di come si possa insieme con il sindacato, insieme con le istituzioni risolvere resistendo. Ma qui c'è stato un bellissimo risultato e una risposta importante del sistema che va a merito di tutti, va a merito delle istituzioni va a merito degli imprenditori che ci hanno creduto però consentitemi di dire che tutto questo non sarebbe stato possibile senza la tenacia, la costanza di queste donne e questi uomini che hanno difesso il lavoro come una cosa sacra e hanno fatto una cosa straordinaria queste sono persone che sono quattro anni che si battano per assicurarsi un futuro questa tenacia merita loro più che a qualsiasi altro nel rispetto di tutti però un grande applauso perché non l'hanno fatto solo per sé ma anche per le generazioni future.